Allora, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Oggi è giovedì, giovedì 19 marzo 2015 e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo di oggi. Oggi è un santo che non ha bisogno di nessuna presentazione perché è San Giuseppe oggi. Oggi è San Giuseppe, padre putativo di Gesù, lavoratore eccetera eccetera, quindi oggi è festa per la Chiesa. Il sole è sorto alle 6.15 e tramonterà alle 6.20 di oggi pomeriggio. Oggi è una giornata, vediamo il tempo con questa fotografia scattata alle 7.30 dal nostro osservatorio meteorologico, un cielo piuttosto nuvoloso anche se non fa freddissimo, però sono quasi 6 gradi, 5 e 7. Oggi avremo comunque secondo le previsioni della protezione civile delle Marche, cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Per domani, venerdì 20, lo stesso cielo sereno poco nuvoloso e sabato poco parzialmente nuvoloso nella mattinata con l'aumento delle nuvole a partire dal pomeriggio. Le temperature sono in lieve aumento, ancora possibili condizioni di variabilità nella prima parte della prossima settimana con il rischio di precipitazioni anche sulle Marche. E adesso andiamo a leggere i giornali. Cominciamo dal resto del carlino di Fano. La pagina di Fano apre con l'ennesima razzia di biciclette in un negozio famoso, storico della città, quello di Fuligni, nella zona dell'ex zuccherificio. Ancora una razzia di biciclette, i ladri prima hanno fatto scattare l'allarme, poi hanno agito dopo il controllo notturno. Danno da 150 mila euro, il sesto furto in 18 mesi, i titolari ora dicono basta. Sotto invece il vescovo tra gli artigiani, il vescovo di Fano Trasarti, questa sera alle 21, dirà messa in un'azienda, la ACM, che sta per Autoriparatori Consorziati delle Marche, in via Ugo, la Malfa 9 a Bellocchi, lo dirà messa appunto tra gli artigiani. È un'iniziativa voluta, organizzata per il secondo anno consecutivo dalla CNA di Fano, dopo la grande partecipazione a quella del 19 marzo scorso. Poi per tutti gli altri ricordo che oggi pomeriggio alle 18, sempre il vescovo sarà nella chiesa di San Giuseppe al Porto a Fano, dove celebrerà un'altra messa e che trasmetteremo in diretta qui sul canale 17, in replica sul canale 216 di Televoce Cristiana. L'Azione Cattolica ha organizzato un torneo di calcio con i profughi, domenica alle 15 nel campietto di calcio dell'Oratorio di San Cristoforo in via Roma a Fano, un torneo di calcio a otto, dicevo, con i profughi ospitati nelle città di Fano, Fossombrone, Acquaviva di Cagli, Cantiano, Piobbico e Dintorni. Domani grande attesa per l'eclissi di sole ed equinozio di primavera, due appuntamenti speciali al Museo del Bali di Saltara, tutti a scoprire il fenomeno così raro e straordinario, mentre al Liceo Torelli di Fano ho tre telescopi a disposizione dei cittadini. Piena solidarietà alla famiglia, siamo a piagge, alla famiglia spaventata dalla violenza dei ladri. Fratelli d'Italia Elne manda una delegazione in casa di Franco Vitali, l'occasione della visita utile per ricordare la campagna in corso. All'opera Padre Pio di Fano è scattato il divieto di utilizzo delle docce all'interno del centro di accoglienza a causa della legionella. Lo ha disposto il sindaco di Fano Massimo Seri con un'ordinanza che da venerdì scorso e fino a provvedimento di revoca fa seguito ai prelievi di verifica svolti dal personale dell'Asur delle Marche. Sorpresa, rispuntano i Mufloni. Si pensava che la colonia fosse stata sterminata con il Nevone del 2012. Per chi viaggia invece in autobus, in particolare sulla tratta Peser-Urbino, probabilmente farà piacere sapere che l'Ami ha acquistato due nuovi megabus a due piani, lo ha annunciato il presidente Giorgio Londè. Ad Apecchio invece faccia a faccia con un grosso lupo, spavento per delle ragazze che dicono girava nel paese, in paese di notte. Il caso Invalidi da Pesero, dal resto del Carlino la polemica, l'associazione Invalidi chiede un'immediata inversione di rotta, l'Inps dicono fa scelte sempre più restrittive costringendo i cittadini a fare ricorsi. Infine, sempre da Pesero, i nodi del Comune bonifica ex AMGA i lavori con il secchiello non è cattiva volontà, ma è la conseguenza del micidiale concentrato di enti. Benché i proprietari si siano chiamati fuori dal pagare, i privati vogliono essere presenti. Il prelievo, la consegna delle chiavi di accesso nell'area di via Morosini risale al 19 gennaio scorso, ma in due mesi ci sono stati solo vari campionamenti. Poi sotto un'intervista a Giovanelli, con l'incertezza non si guarda al futuro, la volontà di chiudere Pesero Studi vede totalmente contrario l'ex sindaco che l'ha voluta e difesa. Apriamo il Corriere Adriatico, la pagina di Pesero. Ospedali, ok alla dotazione organica. La regione approva il documento di Marche Nord, nuove assunzioni e ferie. Tutti i dubbi dei sindacati. Già prevista un'assemblea unitaria con tutti i dipendenti del San Salvatore e della Santa Croce e di Muraglia. A centropagina nasce la maxi partecipata, si chiama Pesero Servizi, società unica con Aspes Capofila, Pesero Parcheggi e Agenzia per l'Innovazione. Luca Pieri, il Presidentissimo, il 31, il voto in consiglio. Otto gioielli da riscoprire con il FAI, giornate di primavera, i luoghi scelti in provincia tra Pesero, Urbino, Fano e Cagli. E poi, la pagina di Fano, anche qui, in evidenza, la cronaca con il colpo grosso con Beffa da Fuligni Sport. In azione la banda del buco, rubate biciclette per 100 mila euro, l'allarme scatta con i ladri in agguato. Vanno sopra il luogo dei proprietari durante la notte, lavoriamo, dicono, per i malviventi e per pagare le tasse. I posti a questo punto di lavoro sono a rischio. Due opzioni per salvare i 5 dipendenti della Rincicotti, nell'immediato l'utilizzo della ditta per i lavori comunali, poi un appalto a privati con l'obbligo di assunzione. A bellocchi, monopolveri d'alluminio, il controllo necessario nel presente. Il Comitato chiede un piano di risanamento nella zona compromessa, definito il derisorio, l'annuncio di spostare le verifiche nel futuro, allarmanti alcuni riscontri. Minardi replica ad Accoto di 5 Stelle, ha l'ansia da prestazione, il Presidente del Consiglio prende 1.334 euro al mese. Tangenti come falsa utilità. Corruzione, depositate le motivazioni della condanna, la difesa fa ricorso. Giuseppe Palermo, lo vedete nella foto, ex Vice Presidente di Aset, condannato per istigazione alla corruzione e assolto dall'accusa di calugna. Niente calugna perché Rossi, come confidente di Palermo, non era un pubblico ufficiale. Indagine partita tardi e male. Sul dregaggio invece, sul dregaggio del porto di Fano, Summit martedì in regione, Paolo Giorgi, l'assessore che vedete in questa fotografia, è disponibile fino a Fano, attende lo stanziamento di 3 milioni di euro per escavare nel porto 20 mila metri cubi di fango e conferirli con altri 25 mila alla cassa di colmata di Ancona. Anche qui la notizia che è stata trovata la legionella nel centro, nelle docce di San Paterniano, poi un distretto turistico tra mare e zone interne, è il progetto del PD. Oggi c'è un incontro politico. Abbiamo scritto una pagina di storia invece dalla pagina del Corriere, da Marotta, opere accessorie, l'assessore entusiasta, accolta la richiesta di modificare e progetto approvato, sotto passo pedonale, prolungato, pendenza ridotta al 20%, allargata la rampa invece per i disabili. A Montebello, giornata dedicata a Sergio Quinzio, è il diciottesimo appuntamento con l'iniziativa fortemente voluta da Gino Girolomoni, pioniere del biologico. E ancora, dalle pagine dei quotidiani, andiamo ad aprire adesso il messaggero, la pagina d'apertura di Pesaro e su Pesaro Studi, lezioni in piazza, provocazione degli studenti contro la chiusura della sede, chiedono il permesso alla Dicos. Volantinaggio in città, in attesa dell'incontro di oggi con il sindaco Ricci e il rettore dell'università Stocchi. Molestie, bimba, accusa il compagno della madre. La piccola di 11 anni, ascoltata dal magistrato per un episodio avvenuto di notte in casa. È un incubo durato una sola notte, ora però per un 45enne pesarese iniziano i guai perché è finito nel registro degli indagati della procura di Pesaro per molestie sessuali. Ieri è stata sentita la piccola davanti al gruppo Lorena Mussoni. Tra le lacrime la minore ha ricordato tutti i particolari di quella notte e ha risposto con precisione alle domande del magistrato. Anche qui la fotografia del negozio di articoli sportivi, di biciclette in particolare Fuligni a Fano con il buco che ha fatto la banda per entrare nel negozio appunto e portare via le biciclette. La pagina di Fano per chiudere la banda del buco, anche qui vedete le altre fotografie. Poi Rincicotti e Orciani, comune sindacati divisi sui dipendenti. L'amministrazione non possono confluire, dicono, nella fusione tra Aset. All'azienda saranno comunque affidati nuovi servizi per superare la crisi. Santini e Giovanelli dice e si augura che non venga smantellata. Legionella ha chiuso le docce dei poveri, il vescovo celebra messa insieme agli artigiani e poi Bellocchi, il comitato è una zona compromessa. Questo è tutto per quanto riguarda la lettura dei quotidiani. Vi ricordo occhialanotizia.it, il nostro sito internet sempre aggiornato e questa sera alle 20.30 invece il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.